ciao a tutti ragazzi bentornati su comizi civili mi raccomando iscrivetevi al al canale e come sempre condividete partecipate commentate allora oggi non possiamo che parlare del dell'argomento più caldo che sta tenendo banco sulla stampa e ovviamente anche sui social che sono sempre molto come dire molto caldi e cioè l'imminente addio del capitano del napoli mare kamsik che dovrebbe partire per la cina tra giovedì e venerdì e sta quindi per lasciare il napoli dopo tante tante stagioni passate in maglia azzurra allora ragazzi io non entro nel merito dei sentimenti che albergano nel cuore dei tifosi ognuno ha la propria opinione ognuno ha il diritto di avere la propria idea quindi io ho profondo rispetto per per l'opinione di tutti di tutti i tifosi quindi non non entro assolutamente nel nel merito voglio però ovviamente fare alcune considerazioni la prima di carattere come dire diciamo aziendale no che rispecchia personalmente quella che è la mia visione del calcio ebbene ragazzi la mia visione del calcio è totalmente scevra è totalmente priva di qualsiasi riferimento ai sentimenti alle bandiere sono concetti che non esistono più ragazzi il fatto che amsic abbia passato tanti anni a napoli per quanto mi riguarda non vuol dire assolutamente nulla tant'è vero che ha accettato un ricco contratto da parte di una squadra cinese che lo ricordiamo non gli offre bruscolini ma gli offre 9 milioni di euro all'anno per tre anni a un giocatore che ha abbondantemente superato la trentina quindi per me dal punto di vista come dire strettamente aziendale professionale amsic ha fatto non bene ha fatto benissimo ad accettare una simile offerta e a provare una simile esperienza fermo restando che naturalmente il campionato cinese non possiamo certamente definirlo un campionato avvincente no sarebbe sarebbe sciocco da parte da parte di tutti l'offerta è allettante dal punto di vista economico e basta dal punto di vista tecnico allora il giudizio su amsic è un giudizio molto complesso perché è un giudizio complesso perché se guardiamo i freddi numeri se guardiamo i fredditati i fredditati dovremmo concludere che marek amsic è un giocatore superiore anche a maradona perché dal punto di vista delle presenze dal punto di vista dei gol ha superato maradona quindi dovremmo concludere che è più forte anche di maradona e naturalmente non è così i numeri i dati vanno contestualizzati perché altrimenti rimangono appunto dei freddi simboli no dei freddi segni dobbiamo interpretarli sicuramente quello che ha fatto la fortuna di amsic in tutti questi anni che cos'è è la grande intelligenza tattica cioè stiamo parlando di un calciatore molto intelligente dal punto di vista tattico che sa muoversi prima senza palla che ha saputo muoversi e spostarsi sul campo prima senza palla e poi con la palla infatti sono celebri gli inserimenti di amsic no i famosi inserimenti dove lui appunto venendo da dietro e sfruttando gli spazi negli anni creati dai vari lavezzi cavani i guain eccetera eccetera è riuscito sempre appunto a trovare l'attimo giusto e il momento giusto per penetrare nelle difese avversarie e per mettere a segno tanti tanti gol amsic è un calciatore è un centrocampista quindi a volte se non ha reso è perché ci sono stati dei tecnici che probabilmente non lo hanno schierato nella sua posizione naturale che non è quella di mezza punta amsic non è un numero 10 amsic è un centrocampista è una mezzala che imposta il gioco che sa far girare la palla e che si sa inserire questo è mare amsic mare chiaro amsic dall'altro lato però ragazzi non posso che sottolinearne proprio dal punto di vista della cronaca dal punto di vista anche giornalistico i limiti che questo giocatore ha dimostrato nel corso degli anni limiti di natura e caratteriale e tecnica che gli hanno impedito di diventare quel campione che probabilmente sarebbe potuto diventare sarebbe potuto essere quel campione al pari di che ne so maldini baggio del piero onesta xavi niesta ronaldo insomma eccetera eccetera c'è questa categoria di calciatori a mio modesto parere amsic non è ascrivibile a questa a questa categoria perché ha anche lui dei limiti dal punto di vista tecnico e poi ha dimostrato anche dei limiti purtroppo mi spiace dirlo dal punto di vista della personalità sono state tante le partite in cui amsic si è assentato dal campo per troppo tempo sono state tante le partite dove purtroppo non è riuscito mai a prendere per mano la squadra e a far sentire il suo ruolo di capitano il suo valore di capitano quindi in conclusione ripeto dal mio punto di vista poi ognuno è libera è libero di vederla come come meglio come meglio crede amare kamsic è un ottimo giocatore ma non è un campione non è un fuori classe i fuori classe per me sono altri detto questo gli faccio i migliori auguri per la sua carriera in cina e invito i tifosi napoletani a non come dire cruciarsi più di tanto per due semplici motivi primo perché ripeto va a percepire 9 milioni di euro all'anno per tre anni e secondo ragazzi perché alla fine ciò che conta è la maglia i giocatori passano la maglia resta quindi il tifoso e tifoso della maglia non dei calciatori un abbraccio a tutti iscrivetevi a comizi civili e arrivederci al prossimo video ciao